OEF racconta Camilleri, appuntamento domenica 7 agosto alle ore 19 con gli autori Lorena Scimè e Andrea Cassisi a Palazzo Arezzo di Trifiletti a Ragusa Ibla, ospite d'eccezione Marcello Perracchio. Allora giorno 7, alle ore 19, quindi alle 7, sarà presentato un libro di due giovani autori Cassisi e l'altro non ricordo il nome e l'età, perdonatemi, al Palazzo Trifiletti di fronte al circolo di conversazione a Ibla. Anche se vi rompete i cabassisi dovete assolutamente venire, ci sarò anch'io perché molto cortesemente avrò l'onore di dire qualche cosa sul grande Camilleri che ho avuto la fortuna di avere come regista e ho avuto la fortuna di recitare le sue opere. Io vi ringrazio, non mancate, non mancate. Mi raccomando, se a noi i cabassisi mi rompo io. A presto! Grazie a tutti.